Benvenuto a tutti in questo nuovo video, siamo con occhio rosso, avete conoscenza di un video fa, anzi due, anzi tre. Siamo di nuovo su Fortnite, perché il video scorso ha raggiunto ben 25 visual e quindi come da promessa siamo qui per riprovarci. Sì, c'è uno là, ma cosa pussi? Le armi hai? C'è un pompa bianco, ma in dubbio che gli altri abbiano armi migliori, scusami. Guarda se vuoi ti do un regalo, questo qui è il tuo regalo preferito per me. C'è? Bella. Oh c'è un tipo da me, sono qua fuori, ci puoi fare una foto. Cosa credi di avere a che fare con i dilettanti? Sì. Mi sei baccato? E' il tuo nello è dentro. Merda, sono fortissimi. 28 bianco? No, mamma mia questa. Di due è un 5-82. 5 dentro? L'altro. 77 è blu? 42 bianco? Sì, è bianco. Puscio, puscio. Bella. Trento è ucciso. Lasciami l'ulti che non ho colpi. Vabbè, grazie per il tuo regolo, è schifoso. Ma do, io mi sono visto morto. Oh la micraietta, bello. Tu dovresti essere molto più forte di me, ti do il due di un'altra faccia, bellissima. Non proprio più forte, anzi, sono molto più scarso. Non gioco da sempre. Non è che tu sei più forte, io che sono più scarso. Esigo silenzio, esigo silenzio. Ragazzi, 15 visual, no, troppo poco, dai. 30 visual, arena, sì, arena, ciao. Creativa, io contro di lui. Bianchi vinci. C'è uno che si chiama Legolas, amore mio, genio. Sicuramente è uno che ha una buona mira. Quindi, ma vada che è morto, quindi non è un problema, però. Guarda, però, che mi sono. È uno, è il famoso school trooper, mi sa. Ma do, ma tutti fortissimi sto oggi? Perché oggi tutti fortissimi? Perché tutti ninja oggi? Cazzo, se lo prendiamo così, era merda. E la metina 5,5,5,5,5,5. Vedi giù, vedi giù, vedi giù. No, no, scudo, vedi con la stessa skin. Aspetta. No, 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 no. Bianchissimo, bianchissimo. Non morire. Lasciami, 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 lasciami. Lasciami colpito. Non tracca, no, non tracca. Bello, lascia alto. Esatto, come l'altra. Allora, scarviola e pistola blu, verde per te. Ma tu sei uno sculato di... VAT! Quello, fatti quello, fatti il merito, fatti il merito. Ma potevi dirmelo che c'era il coso? Oh, campati! Campati che c'è un elicottero. Non pucia. Perché mi hai rotto? Eh, no, è scomparito. È scomparito. È scomparito. È scomparuto. VATTA FU- Un elicottero. Non è quello che fai su Minecraft quando prendi la legna? Che cioppi gli alberi? Il cioppi va su un fune che è un aereo. Secondo me è meglio farsi i cazzi nostri. Anni testa, 170. Sì, però dicevo, secondo me è meglio farsi i cazzi nostri. Sparano davanti a noi. Qui c'è una build, non so di chi sia. Ne voglio saperlo. Allora, se non è questa in ventura. Non sponcare dentro l'albero. No, no. Fermate. No, ha fatto 100. Sì, ci sono delle build. Andiamo sopra la montagna. Sto rimanando. C'è anche la jump, serio, gente. Andiamo dentro quella casetta. Mi sembra un buon posto per non farci vedere. Infatti non è per niente bucata. La spaccano alla casa degli spagnoli. Lo so, lo so. Non c'è andata. Alla casa degli spagnoli. Sto in una scatola, non rompa. Io faccio finta che non ci sei, faccio finta che non ci sei. Camperati qui. Fermo, elicottero. E' salvo. Stai fermo? Non muoverci. Non muoverci. Guardavo dove era. E' lassù, ma è lontano, non ci può colpire. Non muoverti. E' messo a mazzo. Trecento, cinque di legno, trecento diecchi di mattone e novantasette di ferro. Siamo più o meno così, un po' di meno. Fermo, elicottero. Non salvo. Stai fermo? Non muoverci. Oh, vedete raga che è tutto molto più luminoso? Ora che è tutto molto più luminoso si vede anche meglio. Certo, la grafica fa leggermente cacare, però... Fermati, giugente. Senta, fermati, giugente. Non sparare, non sparare. Qui è una partita safe in cui giochiamo bene. Ci jumpano. E questo è a tre miliardi in stanza. Ma non usiamo la jump, noi cerchiamo di rimanere quanto più a noi possibile. No, andiamo davanti a noi, Bill ci sono e non mi piace. Ma andiamo davanti. Ma andiamo davanti. E' sopra di noi, ecco la niente. Ci siamo messi in una brutta situazione. Ci stanno sparando fra di loro, è la nostra occasione. Vieni, 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 vieni. Sì, ma stiamo passando proprio nel mezzo. E dove dobbiamo passare? La 6 che è partita. Passiamo da qui sotto, almeno non ci posso sparare, no? E passiamo qui sotto. Quando ormai stiamo facendo, vabbè. Tanto è l'unica. Ma appena entriamo. Guarda, sopra di noi. Sono lì dietro. Abbiamo insieme, fa sperare di andare da 6. Aspetta, jump, jump. Fermo. Ehi, oh. Jump. Corri, corri. Vediamo. Che cazzo succede? Non mi bisogna più muovere. Senta è qui davanti a noi, tanto. Falta, salta, salta qui su, salta qui su. No, mi stanno sparando. Visto, aiuto, aiuto. Eh, via, dove sei andato? Dove stanno per te. Sciolto uno. Funziona. Vinta! Allora, siamo brutus. Sì, l'ho sciolto però, mi ha chiesto. Non bildi. Non bildi, l'ho sciolto. E dico... Nel chiede tutti e due? Sì. Vieni, vieni, vieni. Ti prego una snipera, da lì ti snipera. Questo bip, 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 mentre ti resto fa molto ridere. Per proposito che stai in ambulanza. Allora. Oh, dammi le vende, le vende, le vende, le vende. Meritid mio però. Eh, vabbè. Dai, Meritid, dai, Meritid. No, no, no. Fai troppo, Meritid. Giante, merda. Sampra, Sampra, non fa niente. Non ti aspetta. Non ti aspetta. Non ti aspetta. Eh, Mario, ha sei fuori. Merda, dove non bocca. Mi luce, mi luce, mi luce. Merda, non ti aspetta. Eh, io sono morta, così mi hanno messo l'alperaggio. Eh, te l'ha fatta, mi ha arrivato l'alperaggio. Vabbè. Bella. Mi rigandito un minuto. Va bene, raga, questo video termina qui. E' stato abbastanza figo, perché siamo arrivati terzi. Purtroppo, però, ci sono stati dei problemi. Tanti problemi. Niente, raga. Forse devo stare io lì, magari, la prossima volta. Vai. Questo video termina qui. Mi chiedete, scusate, condividete. Fate tutto quello che volete. Raggiungiamo, anche per questo video, le 25 views per il prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.